Fontana Fraccaro, Galati, Gitti, Gozzi, Guerra, Lauricella, Merno, Molea, Pisicchio, Rampelli, Relaci, Rosato, Sanga, Sciullian, Tabacci e Valeria Valente sono in missione di correre la seduta odierna. Deputati di missione complessivamente sono 92. Come risulta era l'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato area secondo della seduta odierna all'ordine del giorno. Recca il seguito della discussione e il disegno di legge già approvato dal Senato di Delegazione Europea 2014. Ricordo che nella seduta di ieri era stato da ultimo approvato l'articolo 13. Passiamo all'esame dell'articolo 14. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni immediate procedimento elettronico decorrono a questo momento i termini previsti di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49 del regolamento. Allora, io intanto invito il relatore a dare i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 14. Sì, grazie Presidente. Il parere sugli emendamenti all'articolo 14 è contrario per tutti gli emendamenti. Bene, Governo immagino che sia conforme al relatore. Conforme, Presidente. Perfetto. A questo punto io sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.